Millie Gruber è una delle regine del giornalismo politico italiano, ma anche lei a volte fa qualche errore, specie adesso che siamo in campagna elettorale. Questa volta ha rischiato però di farla davvero grossa. Cosa avrà mai combinato l'ancor woman di otto e mezzo? A violare la par condicio in tempo preelezioni è un attimo. Lo sanno bene tutti. Orietta Berti, ad esempio. Anche la Gruber lo ha imparato a sue spese al punto di dover chiedere pubblicamente scusa. A finire sotto accusa è la puntata del 17 gennaio che l'ha vista ospitare Carlo De Benedetti. L'ingegnere proprietario del gruppo editoriale L'Espresso ha dichiarato in diretta di essere pronto a votare per il Partito Democratico il prossimo 5 marzo, in quanto ritiene che Luigi Di Maio non sia adatto a fare il premier. Una scelta la sua che sarebbe dovuta rimanere privata. Infatti con quella dichiarazione alla 7 ha apertamente violato le norme sulla par condicio causando un intervento dell'Agicom. L'autorità garante ha di fatti inviato un formale richiamo alla redazione del programma. La Gruber ha dovuto dunque fare pubblica ammenda, scusandosi con i suoi telespettatori per non aver rispettato le norme riguardanti la comunicazione preelettorale. Scuse che non le hanno evitato l'ira del web che continua ad accusarla di voler fare informazione spudoratamente di parte. Sarà davvero così? La campagna elettorale è ancora lunga e ne vedremo sicuramente ancora delle belle.